Che va? Come vuoi? Ma io devo dire che l'incontro con i giudici che sono nuovi è stato molto piacevole, conoscevo già Malika e Samuel, non conoscevo Sfera, lo conoscevo solo per quello che ho sentito dire che secondo me è abbastanza sbagliato perché invece lui è un ragazzo emotivamente molto interessante, molto piacevole, è una brava persona. Io uso sempre la metafora del tuffo, cioè finché guardi l'acqua che sembra ghiacciata pensi di non potercela fare e poi ti trovi in mezzo e nuoti ed è molto più facile del previsto, anzi inizi ad apprezzare gli spilletti da freddo, Mara è stata fantastica con noi. Cambiamenti sono sempre interessanti, cambieranno anche, beh voglio dire che terranno per semenza come dicono in Italia. Non sapevo bene cosa mi aspettava, non sapevo se sarei stato pronto a reggere comunque questo tipo di pressione, invece devo dire che da quando abbiamo iniziato è stato un escalation di positività comunque perché io mi sto trovando bene, abbiamo creato un bel gruppo, oltre ai giudici anche proprio internamente tutto il programma, siamo molto affiatati, siamo quasi sempre d'accordo sulle varie dinamiche, per ora devo dire molto molto bene. Un incastro perfetto fra di noi, i caratteri così diversi a volte facevano proprio da, si intrecciavano in realtà poi durante le registrazioni, quindi devo dire è stata un'esperienza scioccante all'inizio ma poi piano piano ci siamo ritrovati completamente nel mezzo. Io mi ripeto spesso che se cerchi patate trovi i fagioli, devo dire che le cose veramente emozionanti ci hanno messo subito tutti d'accordo, così come le cose che anche se carine non potevano avere grande futuro. È stata un'edizione in cui a parer mio c'erano tanti 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 talenti ed è stato difficile trovare sempre quello che secondo noi aveva il talento in più, perché appunto erano tutti molto molto bravi, molti sono riusciti a lasciare il segno, chi anche più simpaticamente con delle gag o come il ragazzo che ha fatto il balletto, comunque tutti bene o male avevano qualcosa che ti colpiva, è stato bello. Non mi sarei aspettata in partenza di formare una squadra come l'ho formata, però alla fine mi sono resa conto che l'identità di chi ho incontrato sommata alla mia ha fatto un discorso di autenticità sufficiente per cui siamo tutti perfettamente sulla barca. Il tempo che ho fatto il veterano la musica è cambiata, la presenza è cambiata molto, per cui io ho imparato da quest'ultimo periodo, ho imparato molto di cose che vedevo e sentivo in un altro modo. Non ci sono state scenate, hanno accettato tutti benevolmente magari l'esclusione, credo che siamo stati anche in grado di spiegare il perché a molti di loro era stato negato il fatto di proseguire. Il gruppo è buono, è piacevole e ci abbiamo, ma credo tutti da imparare un po'. Sono reso conto di essere arrivato alla fine di un percorso con una delle realtà che mi piacciono di più, che non ha presentato un brano suo fondamentalmente. Quindi che il carattere dell'artista venga fuori a volte anche se non scrive, anche se non a volte è determinante per la scelta. Quindi a me sinceramente ha cambiato anche un po' questo percorso che ho fatto all'interno di questa prima parte. Non so se sono in grado di aver dato qualcosa a Sfera perché sono un'altra generazione, un altro modo di vedere. Sono quella dei 50 anni di Woodstock che quest'anno sono l'anniversario. Ma credo che Sfera a suo modo sia però sulla stessa linea di Woodstock, nel senso che la musica è cambiata, l'atteggiamento, il modo di raccontarla è cambiata, ma il modo di viverla è la stessa, se Dio vuole. Mi sono scoperta confetto, nel senso anche all'apparenza, la strega cattiva che trova tutto quello che non va. Qui dentro è in realtà proprio una volta conquistata proprio a tappetino d'orso per dare una mano alle persone che ho incontrato a fare il loro percorso. Nonostante la differenza di età, la differenza di situazione, io penso che comunque la mentalità, il modo in cui uno vuole vivere la propria vita, il modo in cui uno pensa, prescinda poi dall'età. Infatti se noi ci siamo trovati è perché comunque su molte cose la pensiamo allo stesso modo. Ma ora è rock'n'roll. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.